Ciao ragazzi, oggi corriamo, combattiamo ed evolviamo con i Ronimals, ovvero un gioco videogioco, un toys to life, quei giochi che sono giochi veri e propri, li possiamo tenere in mano ma che poi si animano in un mondo virtuale da novità d'avventure eccetera eccetera. E' un gioco che è stato sviluppato, una piattaforma in Italia, concepita e sviluppata dalla Explored, che ringrazio per questa prova e test di gioco che ha una novità rispetto al classico mondo dei toys to life, ovvero la possibilità non solo di animare poi questi personaggi nel videogioco ma di usarli come controller, ovvero vedremo come queste corse che fanno questi animali che corrono le possiamo controllare proprio utilizzando gli stessi animali che poi corrono veramente, cioè hanno delle ruote come avete già intuito in questo starter set che li portano avanti. L'app è disponibile sia per iOS che per Android, sia per tablet come si vede sulla confezione, che per smartphone. I protagonisti di questa storia sono, in tutto abbiamo 12 creature che possiamo collezionare, sono camaleonti, lupi e gorilla che poi sono diverse a seconda degli elementi a cui fanno riferimento. La storia è infatti quella di un mondo in cui le cosmogeme che tenevano tutto in equilibrio sono state distrutte e vanno ricomposte nei frammenti da una forza oscura e maligna. Ecco, questi sono i cercatori, e lo siamo anche noi ovviamente, che possono ricomporre queste gemme. Questo è Fenrir, il lupo dei ghiacci. Ogni personaggio poi ha le sue caratteristiche che ci vengono spiegate nel gioco. Qui vedete questa parte trasparente dove vedremo la luce LED che mi dice che il personaggio sta facendo uno scatto. Interessante il fatto che poi il personaggio, la figure reagisca poi con la piattaforma con cui interagiamo poi nel gioco. Questo invece è Goliath, il gorilla. Ovviamente ha una forza incredibile. Ogni personaggio ha delle caratteristiche che sono la forza, che sono la velocità, che sono la capacità di governare i poteri del cosmo che vedremo differisce da personaggio a personaggio. Sono anche abbastanza morbidi nelle loro estremità, sono veramente molto curati. Ve li faccio vedere proprio da vicino nei colori, nelle composizioni. Questa è la board che mi permette di interagire con il gioco. Gioco che si può giocare anche senza board, cioè potete scaricare adesso l'applicazione perché è gratuita e iniziare a giocare senza utilizzare questa board e anche senza avere i personaggi. Per cui c'è tutta una parte gratuita del gioco che si può giocare andando a collezionare. Più si gioca, più si collezionano monete, eccetera, che vedremo ci portano avanti nell'esperienza. La board ha due tasti per attivarla e per spegnerla e queste scie, diciamo, in cui i personaggi possono letteralmente correre. Qui ci metteremo le trottole elementali, ovvero degli elementi che ci aiuteranno durante il nostro percorso. Fenrir, avete visto anche prima, ha questa feritoia proprio sotto che gli permette di correre in avanti o indietro. Quando arriva nella sommità, vedremo, si illuminerà nel gioco e vedremo che anche lui è illuminato. Questo ci dà un feedback proprio della sua corretta posizione. Il manuale è molto breve perché poi è l'app che ci spiega passo passo come vediamo come fare. I personaggi, come vi dicevo, pistano effettivamente. Questo è Calengol, il primo, avete visto, il camaleonte della foresta. Ci connettiamo alla board veramente in un momento. Avete visto, tac, tac, schiaccio, lui si connette in un attimo. Volendo posso inserire un runicode che mi permette di portare tutto il mio profilo, le esperienze, le figure che ho accumulato e collezionato da un dispositivo a un altro. Se quindi dobbiamo giocare su diversi dispositivi e sincronizzare il tutto. Qui vedete, ragazzi, è molto semplice. Questo è proprio il tutorial iniziale la prima volta che l'ho acceso. Mi dice di mettere i vari personaggi sulla board, i personaggi si integrano perfettamente, vengono riconosciuti e siamo pronti praticamente subito a correre. Cosa succede? Succede che durante questa corsa per arrivare alle cosmogeme troviamo degli ostacoli. Ostacolo azzurro, avete visto? Mando in avanti, ferri nel lupo dei ghiacci. Per ricaricare il mio potere, la parte superiore è il potere, la parte inferiore della ricarica è lo scatto di velocità, devo andare indietro o a metà. Più vado indietro, più si ricarica velocemente. Se sto a metà, si ricarica a metà. Ora invece c'era bisogno del verde invece, quindi di Kalengol, che mi aiutasse a superare questo prossimo ostacolo. Da ostacolo ad ostacolo arrivo poi fino a quella che è la cosmogemma che devo andare a ricomporre, o meglio i pezzi che mi aiutano ad arrivare a 100 punti per fare una cosmogemma. Posso giocare anche con i miei amici, quindi andando ad aggiungere proprio i loro nickname e poi scontrandoci, quindi sbloccando poi il livello, avete visto, multigiocatore. Possiamo acquistare i personaggi o fisicamente, quindi direttamente proprio in negozio, oppure possiamo andare a acquistarli digitalmente in questo modo, così come possiamo acquistare monete per velocizzare, diciamo, lo scalaggio delle varie funzionalità del gioco. Nelle impostazioni, recupero a partita, codice amico, la possibilità di scollegare una creatura, se vogliamo ad esempio ripartire da zero con una creatura, e questi sono i controlli che ci spiegano quello che vi dicevo prima. In davanti scatto, in centrale vado meno veloce, ricarico parzialmente il mio potere, scatto, indietro ricarico più velocemente. Le posizioni sono un po' il centro, il centro del gioco. Quando registro una nuova creatura, che succede? Questa viene subito riconosciuta, avete visto, Golai è stato subito associato, e ha una specie di profilo, carta d'identità, poi posso ruotare per vederla, eccetera, in cui la posso far evolvere grazie alle Cosmogelme, la posso potenziare, quindi migliorare la sua velocità, la sua forza, il suo potere Cosmo, posso anche cambiare, volendo il nome, posso andare a personalizzare il nome della mia creatura, quindi in qualsiasi momento poi la potete rinominare, e posso potenziarla anche usando le trottole. Le trottole sono delle trottole vere e proprie fisiche, che mi permettono una volta, una tanto, di potenziare un animale proprio di quell'elemento. Avete visto che c'è il circuitino qua sulla trottola, che poi interagisce con la board, e c'è il led che si accende, interagisce istantaneamente, uso la trottola, e potenzio alla grande il mio personaggio. Posso usare la trottola una volta sola. Poi vedremo che le trottole mi aiuteranno a superare gli ostacoli che ho lungo il percorso, solo uno per colore. Posso poi andare a personalizzare la mia creatura, avete visto, si personalizza la parte anteriore, la parte della schiena, le ruote, tutta la figura, eccetera. Lo faccio acquistando poi delle monete durante le varie fasi di gioco. Ecco qua all'inizio che c'è qualche ricompensa, man mano che navigo, eccetera, frammenti di cosmogema, che poi mi permettono di potenziarmi man mano. Questa, ragazzi, è la preparazione alla sfida, in cui vedo la facilità o difficoltà della sfida, i vari elementi che mi ritrovo, e poi si lancia la sfida. Tra GPR, ho dato un nome al mio branco, quindi il branco con cui parto, Goliath, Galendal, e poi abbiamo Ferry, e poi, ragazzi, avete visto, la squadra nemica contro cui devo andare a combattere. A questo punto devo raccogliere la cosmogema, è l'obiettivo. Devo sfidare il mio avversario, sulla destra vedo l'avanzamento nel percorso, sia mio che quello dell'avversario, e a questo punto, ragazzi, può iniziare la corsa. Per fare un salto acrobatico, devo portare, avete visto, in avanti i due animali che ho sulla destra, lasciare a metà quell'altro, a questo punto posso fare delle evoluzioni. E più si va avanti nel gioco, più ci sono delle difficoltà, perché devo superare dei guardiani terribilissimi, e in più posso fare, appunto, evoluzioni diverse, eccetera. Qua sto accelerando per farvi vedere poi l'arrivo a quello che è proprio la vittoria finale della cosmogema. Quindi abbiamo diverse corse che possiamo fare, e che nel contempo diventano sempre più difficili, ma noi ci possiamo sempre più potenziare. Queste sono le gemme, una per ciascun elemento. Abbiamo visto prima l'elemento fuoco, poi abbiamo la foresta, poi abbiamo i ghiacci, e poi abbiamo l'elemento dello spirito. Questi sono i quattro elementi che ci permetteranno di riequilibrare il tutto. E questi sono gli altri animali a disposizione per accrescere sfide, eccetera, e renderle sempre, sempre più leggendarie. E andiamo con la sfilata dei cavaleonti. Abbiamo Kalengol, abbiamo Ember, abbiamo poi Hyleon, e poi per lo spirito abbiamo Kamas. E la sfilata dei gorilla, abbiamo Zanan, abbiamo poi Petrus, abbiamo Goliath, e abbiamo Ymir, invece, per quanto riguarda i ghiacci. E infine, prima del gameplay, sempre da sinistra, abbiamo Farrir, che abbiamo sempre dato a conoscere, abbiamo poi Astrid, poi abbiamo Elantar, e poi abbiamo Ignus. E andiamo, ragazzi, al gameplay. Andiamo ora, ragazzi, a vedere un gameplay un po' più avanti nell'esperienza. Sono arrivato a nove come esperienza di gioco. Andiamo a vedere, appunto, come sono le sfide un po' più avanti. Questo è il branco che ho scelto. Non voglio mettere sopra al momento le creature, fammi vedere proprio la possibilità anche di giocare senza le creature. Quindi tutto in modalità è virtuale. Andiamo quindi a schiacciare l'avventura. Mentre intanto il mio branco, composto da Zanan, il gorilla dello spirito, poi abbiamo Elantar, il lupo della foresta, e Fenrir, che abbiamo conosciuto prima, ovvero il lupo dei ghiacci, sono pronti all'azione. Abbiamo un mondo in cui poter andare a scegliere. Alcune sfide, vedete, hanno la possibilità anche di essere giocate con diversi elementi. Cosa vuol dire? C'erano questi quattro pallini sotto. Mi sono perso in giro qua per il mondo, ok? Ecco qua. E ho la possibilità di affrontare questo stesso livello, ma con prevalenza di sfide che riguardano l'elemento, l'elemento ghiaccio. Quindi è consigliato sia più ricompensa. È consigliato avere magari due elementi, eccetera, per poter giocare questa sfida. Vado a scegliere le creature e posso andare a switchare, vedete, tra le diverse creature. Lui si ricorda, c'è Goliath, Ignus, eccetera, le creature che ho già utilizzato in precedenza, anche Kalengol, eccolo qua. Oppure le posso, vedete, se non ce le ho a disposizione, le posso andare sullo store ad acquistare. Andiamo alla sfida. Quindi tappo qua sul 16, si carica, ho il mio branco, con le sue caratteristiche, abilità, velocità, forza, cosmo. Mi dice qual è il livello medio, in questo caso, di questo livello. E cosa troverò? Delle piante, troverò anche dei guardiani, come vedete, tutti gli ostacoli che troverò in questo livello. E anche quali sono proprio i poteri che sono coinvolti. Di modo che posso magari anche scegliere, ovviamente, il mio branco per essere più pronto a questa sfida, in base a quelli che sono i poteri. Andiamo alla sfida. GBR sfiderà il Golem. Posso andare ad acquistare una trottola con le monete che ho conquistato durante il gioco stesso, perché non ho, ad esempio, nessun elemento arancione del fuoco, mi potrebbe essere veramente molto utile. Quindi l'acquisto, mi aiuterà, come vedete. A questo punto gli do il via. Notate che non ho assolutamente, non faccio utilizzo della board. Questo vuol dire quindi che io potrei avere semplicemente il tablet, il tablet in mano. Diamo il via e a questo punto io scelgo la posizione di combattimento in questo modo, vedete. Lo schermo si divide praticamente in tre, l'azzurro e vado contro. Ora devo andare verde, ok? Non sono riuscito a combattere il guardiano. Perché? Perché non ero a pieni poteri. Per combattere i guardiani è necessario essere assolutamente a pieni poteri. Ora, la conformazione. Quindi, non l'ho fatta correttamente, perché adesso mi sto sconfondendo a parlare, giocare, eccetera, e tappare sullo schermo. E ora vediamo qual è il colore che ho in volto, è il viola. Vado avanti col viola, ok, perfetto. Ricarico per bene i personaggi. Vado avanti con l'azzurro. C'è questa a disposizione, prendo la composizione e nel frattempo sono davanti rispetto ai golem. Ecco qua. Questo passaggio mi ha, avete visto, fatto crescere un sacco la velocità. Ora è il turno del verde. Vado a prendere le monete. Le monete raccoglie Fenrir, l'azzurro, il lupo in questo modo. Ora, ho un elemento che ho distrutto perché sono andato avanti con tutti i giocatori contemporaneamente, cosa che si può fare. Ah, mi sono scontrato. Adesso vado a creare la configurazione corretta per fare il salto. Ora ci vuole l'azzurro, tiro indietro gli altri, ricarico i poteri. Perfetto, ci siamo. Ora il verde, è già avanti il verde. Perfetto, benissimo. Ha acquistato lui stesso le monete. E ci siamo. Sto per arrivare alla fine. Sto per arrivare, sto recuperando sui cattivi. E... Vediamo se ce l'ho fatta. Ora ragazzi, siamo arrivati in pari merito. Questo vuol dire che c'è il combattimento. Sono io ad attaccare per primo. Varrà la forza, ovvero gli elementi più forti riusciranno a battere quelli più deboli. Vado col mio lupo della foresta che però, ragazzi, come vedete, perde 48 a 36 di forza e le prende di brutto, porino. Ok, sono fuori dal gioco. Un punto per i golem. Ora, seconda sfida. Io vado col mio gorilla, 39 a 43. Ho perso anche questa, ragazzi. Siamo 2 a 1. Quindi vuol dire che ho già matematicamente perso questa sfida. Niente da fare. Ora, affronta il mio lupo, quindi il mio ferrir, con il loro gorrillone. E alla fine, anche in questo caso, ho perso. Avrei dovuto vincere sul campo oppure potenziare di più il mio personaggio per riuscire a vincere la sfida. Aumento punti esperienza, aumento monete che mi permetteranno di avanzare nel gioco. Ora vediamo l'utilizzo invece con la board. Attivo la board, in questo modo, col tasto play e attendo che vada a sincronizzarsi con la mia applicazione. Sincronizzazione è venuta, come vedete. E a questo punto lui mi chiede di mettere i miei tre elementi sulla board. Vorrei fare, ragazzi, una squadra di lupi. Per cui metto il mio ferrir. Metto il mio elentar. Eccolo qua. E metto il mio ignus. Eccolo qua. O ignus del caso, ma facciamo ignus. Eccoli qua. E ho pronta la mia squadra di lupi. A questo punto, ragazzi, posso andare direttamente all'avventura. Potrei fare, volendo, con una sfida rapida. Sono sfide che posso far partire così, senza il percorso dell'avventura vera e propria, quindi in velocità. Potrei andare anche a sfidare un altro giocatore. Qua vedete in giro, tra virgolette, per il mondo, i vari giocatori che potrei andare a sfidare. Ce ne sono di più esperienza di me, 112 contro 104. Ce ne sono più o meno forti. Ovviamente più forti sono. Se riesco a battere quelli più forti, beh, a quel punto posso pensare di avere anche più ricompensa. Potete anche sfidarvi con i vostri amici, eccetera. Basta soltanto passarvi, ovviamente, il nickname. Andiamo all'avventura, ragazzi, perché voglio passare questo livello 16. Ci provo. La mia carta è la velocità, siccome come forza 16, ok. Come forza non ci sono. Utilizzo una trottola, una trottola viola. Dato che lui dice come suggerimento dovessi portare, almeno con te, una creatura dello spirito. Visto che lo spirito è ben, diciamo, presente in questa sfida. Io giocherò di trottola. Vado con la sfida. È GBR contro i golem. Vado a inserire la mia trottola prima che lui mi dica la puoi acquistare. La inserisco in questo modo. Ce l'ho. E ora, ragazzi, sono pronto alla sfida. Tre lupi contro i golem. Li metto qui a metà. Come vedete, giocare assieme è proprio... Eh... Vai! Sto attento che esca la lucetta, di modo che sono sicuro che l'elemento corretto è stato preso. Ci sono arrivato fino in fondo. Ecco uno dei guardiani. Allora, verde, blu. Non ce l'ho fatta, ragazzi. Non ce l'ho fatta a superare il guardiano. Ora il viola. Come faccio a superare il viola? Sarà la trottola da aiutami. Disposizione. Due a metà, uno avanti. Per fare il salto, ok, acquisire un sacco di monete. Vado a ricaricare lo scatto di questo lupo. Porto avanti invece l'elementare qui. E' a lentar qui. Eccolo qua. Rosso. Uh! Appello, ragazzi. Oltre a essere proprio veloci a muovere le varie figure sulla board di gioco. Ora, spirito. Ho già usato la trottola. Mi sono dimenticato di metterli tutti a tempo avanti. E adesso sono rimasto senza poteri. Ma li metto nella configurazione corretta. Ho il turbo e nonostante tutto sono ancora avanti. Nonostante questa performance non brillantissima. Forza. Forza GBR, vai. Avanziamo con Fenrir. Ok. Disposizione corretta. Luce illuminata led e sono pronto a prendere il turbo. Ragazzi, adesso vado di velocità. Non possono pareggiare. Ora, ultimo ostacolo. Il potere, il potere, il potere. Avete visto? Non avevo pieno potere. Non sono riuscito ad affrontare l'ultimo ostacolo. Non voglio il pareggio, ragazzi. Andate avanti a tutta. No, 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 no. Ah, non ho l'elemento spirito. Lui mi aveva consigliato usare l'elemento spirito. Però forse ce l'ho fatta lo stesso a vincere. Sì. Uh. Uh. E i lupi ululano. E festeggiamo la vittoria. Abbiamo portato 37 fichi. 252 esperienze. 17 monete. E ce le portiamo a casa. A questo punto il tutto si carica, ragazzi. Siamo quasi arrivati a portarci a casa una cosmo gemma, ma non ancora. Per la prossima sfida facciamo una sostituzione. Togliamo un lupo. Eccolo qua. E il lupo se ne sparisce. E mettiamo Zanan, il gorilla dello spirito. E Zanan compare. Fantastico. Questo effetto teletrasporto che mi sa di Star Trek un sacco. E tolgo poi questa trottola perché non userò a questo punto una del fuoco. Andiamo all'avventura. Andiamo al livello quindi 17. Qua vedete mi dice quali sono gli elementi che vado ad incontrare. Quindi due ostacoli del fuoco. Uno mi aiuterà la trottola. L'altro farò lavorare per bene i ragazzi tutti assieme. Andiamo alla sfida. Vado GBR contro le lame nere. Vado ad inserire la mia trottola. Qui viene subito riconosciuta e sono pronto a partire. Si ricarica il mio scatto. E vediamo qual è il primo ostacolo. Primo ostacolo ghiaccio. Ok. Riaspettiamo la ricarica del potere. Due ghiacci. Non ce l'ho fatta. Il potere non era ancora pronto. E quindi il guardiano ragazzi mi ha me le ha suonate di brutto. Ora disposizione corretta. Turbo questo mi aiuterà. Spero a passare le lame nere. Siamo lì in realtà. Come livello. Siamo quasi a pareggio. Ora. Questo schema per riuscire a passare questo guardiano. Ce l'ho fatta. I due colori. Avete visto? Questo è un guardiano mobile. E' uno dei peggiori. Perché il colore te lo dice all'ultimo. E a questo punto se tu azzecchi il colore ti puoi difendere. Ma devi avere il potere carico. Perché col potere carico ce la puoi fare. Se sei scarico come me. Non ce la può. O se non sei pronto come me. Non ce la puoi fare. Avete visto che sono sotto. Devo darmi una svegliata ragazzi. Allora. Tutti gli scatti. Tutte le velocità. Iniziamo a correre. Colore. Sì. Azzurro. Ci siamo. Monete. Ok. Sempre l'azzurro raccoglie le monete. Ricarico per bene l'azzurro. Che ne ha bisogno. Ricarichiamo. 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 Sì. Potere ce l'ho. Vai. Ok. A questo punto rosso. All'arancione fuoco. Mi aiuta la trottola. Ora. Configurazione. Corretta. Per saltare. Raccogliere più monete possibili. E sono lì ragazzi. Sono lì ora. Tutti assieme. Per affrontare questo. Ce l'ho fatta. Avete visto. Ho messo avanti tutti gli elementi. Anche se non era il mio colore. Mi ha causato una grossa perdita di energia. Non ho il potere che mi basta per affrontare l'ultima. Infatti non ce l'ho fatta. Non ce la farò neanche in questo caso. Non ho il potere che mi serve. Non sono carico. Vediamo se perdo. Vado in pareggio. Attenzione. Dove faccio ad andare in pareggio? Verde. Non ho ancora il potere ragazzi. Vedete quanto è importante ricaricarsi per farlo. E ce l'ho fatta. Devo dire che sono a un livello molto in là dove potenziare le mie creature. Ora attacco io per primo. Bisogna avere la fortuna di non beccare lo scimmione a primo incontro. 32 contro 30. Ho vinto ragazzi. Lupo contro lupo ce l'ho fatta. Il mio lupo del ghiaccio ha vinto contro quello del fuoco. Ora ragazzi me la gioco contro il cavaleonte. E a questo punto ce la posso fare. 36 a 23. E ragazzi ora scimmione contro scimmione. Spirito contro ghiaccio. Anche se lui è fortissimo. 43. A questo punto ragazzi sono 2 a 1. E la sfida la porto a casa io. Uh avete visto. Anche se non siete proprio potentissimi. Ma se siete veloci eccetera. Riuscite lo stesso a vincere la sfida. E a collezionare. Poi più riuscite a vincere delle sfide dentro le sfide. Completa una sfida con due gorilla eccetera. Allora riuscite a ottenere dei punti aggiuntivi. Ora si è liberata una cosmo gemma. Congratulazioni. Tocca per continuare. Cosa vado? Vado in creature. E con la mia cosmo gemma vado a potenziare Fenrir. Lo evolvo in questo modo. Ora occhio qua. Aumenteranno. Avete visto. Di 1. 5 in totale. Di 1. Di vari elementi. La velocità. Forza eccetera. Potere cosmo di Fenrir. E infine ragazzi. Proviamo una sfida impossibile. Andiamo ad un multigiocatore. E cerchiamo uno che abbia un punteggio veramente incredibile. Asa Opo 135. Vado alla sfida ragazzi. Allora. Zanan. Fenrir. I colori sono corretti. Latero. Si posso usare questo branco ragazzi. Proviamoci. Ci sono tutte le difficoltà del caso. Sarà durissima. GBR contro Asa Opo. Se vinco mi porto a casa dei punti. Se non vinco mi sono allenato. Allora. Via con la mia trottola arancione. E sono pronto a partire. Via. Vai. Si tappa. E si va. Allora. A questo punto ragazzi. Due lupi. Uno scimmione. Partiamo. Azzurro. Semplice. Ricarichiamo subito. Un nuovo azzurro. Passato anche questo. Ricarichiamo subito. Andiamo a prendere monete. Con lo spirito. Ecco qui. E aspettiamoci la prossima sfida. Sfida spirito. Ok. Superata. E direi che al momento me la sto cavando bene. Riuscendo a caricare i vari elementi. Andiamo a caricare subito il verde. Guardiano. Guardiano. I guardiani sono difficili ragazzi. Si. L'ho passato. L'ho passato. Secondo guardiano. Attenzione. Ah. Non ce l'ho fatta. Non ero a pieno potere con Ferrier. E non ce l'ho fatta. Vado a ricaricarli tutti. Configurazione. Uh. Dovei averla presa. Si. L'ho presa finissimo proprio. Avete visto che è molto reattiva la piattaforma. Mi ha dato un sacco di turbo. E ora ragazzi arriva un nuovo guardiano. Verde. Si. Mi sono difeso. Perché ero a pieno potere con il verde. Nuovo verde. Sarà difficile. E infatti non ero a pieno potere per ricaricarmi. Mi ricarico completamente. Vai. Si. Mi sono protetto. Questa volta ero a carico di potere. E ho passato il guardiano. Ho passato il guardiano. Sto battendo la zaopo. Non mi stavo corrigendo ragazzi. Vai. Vai. La sfida è impossibile. Potrebbe essere vinta. Di precisione ed abilità. Turbo. 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 Tutti al massimo. Per festeggiare. Si. Epico. Ecco qua ragazzi. Tutto quello che mi sono portato a casa. Ecco. La sfida non è live. Nel senso che ho combattuto contro un branco di esperienza e combinazione di zaopo. Non ho combattuto in tempo reale online con lui. Quindi è uno scontro comunque contro il computer in questo caso. Quindi contro la CPU. Eccoci qua ragazzi. Livello superiore. Sono arrivato a 10. E ora ragazzi mi porto a casa anche una bella cosmo gemma bonus. Eccola qua. Lì che lampeggia. Posso andare a incrementare le mie creature. Abbiamo visto prima come le possiamo evolvere. Le possiamo anche andare a personalizzare. Ci sono diversi elementi. Vedete che posso andare volendo a utilizzare. In questo modo si è equipaggiato così. Più 10% di monete. Possiamo equipaggiarlo volendo. Se libero degli altri scrigni. Ecco. Proviamo a liberare uno scrigno. Andiamo qua sopra a comprare un elemento. Siccome abbiamo le monete. Andiamo a prendere l'elemento. Vedete. Posso andare a selezionare. Quindi o questo elemento qua un 15% in più di monete. O un 5% di punti di più esperienza. Si applica avete visto al Gorilla. Quindi non si applica direttamente a Ferrir in questo caso. Vado a scegliere questo. Mi ritrovo qua sopra. La possibilità vedete di aggiungere un 15% di monete. Vado a personalizzare. E guardate che ruotone stilloso si ritrova a Ferrir. Che devo dire è stato molto contento di questo shopping che gli ho fatto. E poi qua sotto abbiamo la possibilità di acquisire delle abilità. Recupera energia al 10% più velocemente. Oppure qua possiamo andare a 10% in più di velocità con il booster eccetera. Man mano che avanziamo abbiamo la possibilità con monete eccetera. Anche di fare shopping. E di essere quindi sempre più potenti. Dal tono della strada è lunga. Le sfide sono tante. E a livello multigiocatore. Anche con gli amici si possono fare veramente moltissime sfide. Bisogna essere abili a videogiocare. Ma anche a video lavorare su questa specie di console. Devo dire ragazzi che ti senti un po' DJ quando giochi a Ranimals. Che porta quindi questa bella novità del movimento. Del fatto che le figure nell'ambito toy to life non sono proprio delle figure ferme basta. Come capita in altri giochi di questo tipo. Ma si possono anche muovere e poi possiamo anche giocarci. Come se fossero delle bestiali macchinine. All'inizio ci vuole un po' di fatica e di allenamento. Per arrivare a un certo livello e iniziare ad avere le sfide un po' più corpose. Ma ci sta ovviamente nell'economia del gioco. Per cui all'inizio ragazzi dovete avere secondo me un po' di pazienza ad affrontare le varie sfide. Per avere un po' più di soddisfazione. E ottenere delle sfide ancora più impegnative. Se questo video ragazzi vi è piaciuto. Un bel pollicione. Se avete domande, commenti e informazioni sui Ranimals. Vi aspetto qua sotto nei commenti a questo video. Mette ferro in sé la ulula in questo modo. Io vi saluto ai prossimi video ragazzi. Ci vediamo qui su GBR. A presto. Ciao ciao. Davide.